un malino che è da 400 metri, 6.000 anni che fa il giro, che non è venuta a provare niente con tre, che dà i piedi e i nogari tutti i pioni. Perché la massa è scomoda assieme ad acqua. Dai, sono qua. Dalla gente, no? No, vabbè. Non gli vince? Sì, però arriva a rientrare adesso, cazzo. Massa, massa di giro.